Per Marzia, inizia una nuova sfida nella cucina di Voiello. Giù il cucino. Voglio fare una cosa che non ha mai fatto nessuno. Invece del vino, le tiro con un po' di vino. Vale! Per Marzia, la farmacista campana, dopo l'avventura Masterchef sta per iniziare una nuova favola nella cucina di Voiello. Dovrà usare tutta la sua creatività per diventare il prossimo Master of Pasta. Ciao Marzia, benvenuta. Ciao, che accoglienza! E' certo! Purtroppo la fiaba di Masterchef non ha avuto il lieto fine che speravi. Eh va buo, per ogni fiaba c'è una fiaba alternativa, quindi andrà bene la nuova fiaba. Vero? E' certo, sono napoletana, minimo lo devo far andare bene. Siamo a posto. Ti ho preparato una misteri, che ti caratterizza un po'. Sei curiosa? Dici? Sì. Prego! Ti ho messo per le fiabe la mela di Bianchianeve, la mela rossa. Bellissima, la volevo. Poi, qualcosa della scostia. E certo, mio figlio studia in Scozia. Carne scostese, birra scura. E per le tue origini abbiamo il San Marsano, la mozzarella casertana, le coste e poi, che ti ricorda magari qualcosa, aglio di vogliera e fegatini di pollo. Certo! Ti piacciono? Sei stato bravo? Sì, sì. Sì, sei stato bravo. Manca solo la principessa. Pasta. La pasta vogliello. E voilà, i fusilli. Il fusillo vogliello. Tempo di cottura? 12 minuti, che è il tempo che hai per preparare il tuo piatto. Marzia ha 12 minuti per preparare un piatto con gli ingredienti della Misteri. Inizia la sua sfida. 3, 2, 1, giù il fusillo. Faccio subito i fegatini con la cipolla e comincio ad aprire. Perfetto, una sorta di base veneziana. Una base veneziana, certo. Sono andata via con sfumature di Venezia. Vingerò con sfumature di tutta Italia. Ottimo! Giù la cipolla nell'olio rosolare. Poi cosa facciamo? Tagliamo i fegatini, che vuoi fare? Io ti aiuto, mi permetto già che sono qua. Sì, certo. Mettiamo un po' di nord, perché nel tragrasso del fegato e il grasso dell'olio. Poi voglio sgrassare con un po' di mela. Profumo di rosmarino. Ah, quindi andiamo a mediare con la dolcezza della mela. Ok. Io direi che siamo quasi pronti perché... In modo che rimane croccante, no? Sì, sì. È fatta. Tanto dobbiamo tirare la pasta dopo. Cosa facciamo? Mi faccio le cozze. Le voglio fare le cozze. Le cozze. Come le facciamo le cozze? Le apriamo con l'aglio fabosso antipatico. Con l'aglio di boghiera. Ecco la. Ok. Quindi cosa facciamo? Facciamo un maremonte a mio modo. Un maremonte fiabesco da matti, dipende dai punti di vista. Come posso scordare questo maledetto aglio che l'ho usato in camicia, come diceva il mister Barbieri e il mister Canavaciolone lo voleva a pezzettini. Nel frattempo sono già passati sei minuti, però sta andando tutto alla grande, no? Sì. Voglio fare una cosa che non ha mai fatto nessuno. La vino? Invece del vino le tiro con un po' di vino. Ale! Oh! Ho fatto veramente un pasticcio. Ti rimangono quattro minuti. E allora cominci a grattugiare un po' di parmigiana che lo voglio. Agli ordini! Basta. È sufficiente così, Chef? Sì. È grande sta patella. Ah, le volano i fusilli. Volano, volano, volano! Fanno la magia del fusillo volante. Parmigiana. Un po' ne grattugiamo alcuni. Ho visto che hai aggiunto del pomodoro. Poco, poco. Ok. Ho detto che è un piatto pazzo, quindi... Sì. Mancano cinque secondi. Tre, due, uno, via la padella del fuoco. Hai utilizzato praticamente tutto? Quasi tutto, sì sì. Eccezionale! Manca solo l'impiattamento. Manca solo il nome del piatto. Favola italiana. Favola italiana. Favola italiana. Favola italiana. Adesso sarà il pubblico a decidere se questo è il piatto del voiello Master of Pasta. Quindi... Ma vita vita! Fine. A Master of Pasta il giudice sei tu. Vota la creatività, la preparazione, l'impiattamento e la passione del piatto di Marzia. Avrai la possibilità di vincere premi esclusivi.